tre giocatori più forti di tutti i tempi avevo fatto ho fatto vedere una maglietta su instagram qualche tempo fa c'erano pele maradona e zidane che a me è piaciuto moltissimo come giocatore però se devo dire i più forti tutti i tempi aggiungo messi lo metto a pari con zidane che secondo me è stato veramente fortissimo e poi sempre decisivo due gol in finali di coppa del mondo quando vinse la francia nel 98 quel gol strepitoso fra i champions league ma poi delle giocate veramente sopra fine quindi direi questi tre barra 4 poi sicuramente cristiano ronaldo per numeri non può non essere quasi a pari merito sul podio come italiani baggio totti del piero ps e i vostri invece quali sono i tre più forti tutti i tempi e tre più forti italiani